Visto che il fato mi è stato amico facendomi droppare ben due leggendarie subito col primo boss facciamo due chiacchiere sulle armi conviene sempre documentare soprattutto su leggendarie e oggetti blu unici intendo su eventuali caratteristiche nascoste, i pro e i contro e diciamo subito che questa è una delle pistole più forti che si possono trovare squaglia letteralmente i nemici con la corazza ma anche quelli con la carne come ho già avuto modo di dire vale la pena quindi ritornare a farmarla quando avrete raggiunto il vostro personale level cap è fortissima perché spara mirando con lo zoom raffiche di 6 proiettili e in pratica avrete il 100% di probabilità di applicare l'effetto di corrosione inoltre poi magari si vedrà meglio quando la utilizzo nei prossimi gameplay all'impatto rilascia anche una nuvola acida e quella fa il cosiddetto danno splash dice che è aggiuntivo e tra parentesi beneficia di quei moltiplicatori di quel tipo di danno ci sono mode reliquie poi si avrà modo di parlarne ma il dubbio che viene spontaneo è è sempre uguale la leggendaria che si droppa apparentemente se non avete colto il piccolo particolare che fa la differenza ecco i due drop a confronto sembrerebbe sì ma guardate bene una ha un danno 20 l'altra 21 la precisione è diversa la cadenza è identica la velocità di ricarica no effettivamente anche lo zoom sotto 2.8 e 3.2 c'è una versione che può essere considerata la migliore o quelle due tre alternative che possono essere considerate le migliori poi dopo entrare una questione anche di preferenze se uno vuole l'arma che non consumi troppo munizione vuole l'arma che spari i proiettili più veloci premesso che dei particolari più spinti non dovrebbe fregarvene più di tanto finché non sarete al vostro massimo level cap solo lì comincerà il farm in serio vediamo almeno gli aspetti più importanti lasciando magari riferimenti per approfondire la cosa nel caso foste interessati dicevo ben più avanti però fatevi i primi due giri play through senza problemi di base c'è la realità dell'arma a maggiore realità corrisponde maggiore potenza si parte dall'arma di colore bianco la stra più comune di tutte per poi passare alla verde poi alla blu poi alla viola e infine all'arancione giallina la leggendaria con i dlc ultimate vault hunter pack 1 e 2 sono state introdotte anche le armi perlace azzurrine fortissime e con l'ultimo dlc di lilith e la battaglia per century sono state introdotte anche le cosiddette effervescenti vi dico subito state tranquilli quando sono uscite aveva un senso aggiungere anche nuovi tipi d'armi perché bisogna invogliare i giocatori e avere qualcosa per cui lottare ma anche solo con le leggendarie ci fate tutto e alla grande e concentriamoci su queste anche se quello che sto per dire vale per tutte le armi su pandora ci sono alcuni costruttori ditte costruttrici d'armi eccole anche se qui troviamo elencata anche la bandit che è del pre sequel per bolzen 2 guardate da dal fino a vladov e per ciascun tipo d'arma pistole mitragliette fucili d'assalto shotgun eccetera ciascuna ditta ha un suo prefisso per indicare una variante dello stesso tipo d'arma ad esempio la hornet forse ci avete badato è una DAL eccola qui e più attenti avremmo dato che il prefisso dei miei drop in entrambi i casi è stato neutralizing cosa significa che rispetto agli altri prefissi il singolo proiettile fa più danno damage plus la loaded come suggerisce anche il prefisso stesso è quella che garantisce una scorta a maggior demolizioni un maggior magazine size e così via una molto apprezzata questa da ricordare è quella che ha come prefisso in riferimento alle pistole perché solo le pistole possono avere questo one trigger pull five two shots cioè praticamente tu spari due proiettili per volta e quindi con il singolo sparo fai doppio danno twin per DAL redundant per l'hyperion two fair per jacobs e così via cambia il nome ma l'effetto che si è sottinteso è sempre quello a complicare le cose il fatto che cambia un tipo d'arma non è che rimanga sempre quello il prefisso per lo stesso effetto facciamo un esempio scegliamo uno che ce l'hanno un po' tutti il damage plus DAL per le pistole chiama questo prefisso neutralizing ma se andiamo a vedere come chiama l'effetto damage plus per le mitragliette ci troviamo invece stopping e anche gli altri cambiano beh non diventate matti quando droppate una banalissima ricerca con google vi dice ah sì questa è la versione che ha più danno che ha spara due proiettili per fortuna ormai internet è pieno zeppo di questo tipo di informazioni mi raccomando non andate in paranoia perché c'è chi ha finito tutto ai massimi livelli senza neanche sapere dell'esistenza di queste cose c'è di più sì perché queste sono le varianti se ne consideriamo i danni elementali se andiamo a cercare sul wiki le informazioni sulla hornet troviamo che esiste solo nella versione corrosiva e quindi prefissi elementali non avrebbero senso è solo hornet è automaticamente corrosiva ma se andiamo su un'altra arma iconica sempre un'altra pistola la mitica infinity scopriamo che può avere tutti i prefissi che abbiamo visto sul labello di prima in quanto non elementale ma potrebbe anche uscire in versione elettrica shock incendiaria e corrosiva infatti e questo è un buon punto per andare a documentarsi se poi clicchiamo sul link fammi vedere un po' quali sono le possibili varianti dell'infinity arriviamo su una tabella che distinguendo anche addirittura per livello dell'arma elenca le caratteristiche e le statistiche a seconda del tipo rapid è uno dei prefissi visti prima ci sono un po' tutti quelli là ma ne abbiamo anche degli altri che corrispondono alla versione puramente elementale di quell'arma ad esempio potremmo trovarci la versione incendiaria cioè la burning occhio che questo non vuol dire che non posso trovare la mia versione è quella con il più alto rateo di fuoco perché nel caso dell'infinity la probabilità usando quella che spara due colpi di avere davvero i due colpi per sparo è bassina per cui alla fine conviene avere più rateo e quindi la vengeful vuol dire che non potrà essere elementale no no abbiamo la vengeful che è quella che ha massimo rateo di fuoco per le pistole della vladov e che senza che ci sia vicino la parolina burning o shock in realtà può essere droppata in versione shock elettrica o corrosiva confermo allora il suggerimento di prima vado a cercare con google bolden 2 best infinity variant e così ristringerete immensamente il campo magari chi dirà questa no questa però sostanzialmente saranno le migliori mi fermo qui in questo video perché voglio mostrare un po di gameplay altrimenti diventa una super pizza ci sono ancora due aspetti importanti che discuteremo nei prossimi video sempre relativamente alle armi il danno elementale il miglior tipo di danno a seconda dei nemici anche se qualcosa già vi ho detto e si può intuire ma c'è parecchio che cambia da playthrough 1 a playthrough 2 cioè da norma UHM a UHM parecchio cambia e un altro aspetto di quelli proprio da super professionisti non andrei mai a... le probabilità di trovare l'arma con tutte le parti perfette perché di questo parlando ogni arma è fatta da diverse parti e sono le stesse c'è sempre un calcio, c'è sempre un impugnatura, c'è sempre un mirino, un corpo principale dell'arma, la canna e altri accessori e cercando in rete potreste trovare che per una certa arma è consigliato il calcio stock della DAL il corpo Maliwan ma come cavolo si fa a capire tutte queste cose qua? prima risposta, chi se ne frega, perché tanto poi è praticamente impossibile droppare in modo legito mi sono state date parecchie armi perfette ma dopo ragionandoci sopra fai 4 conti sulle probabilità, ci vorrebbe magari 10.000 RAM per sperare di ottenere la combinazione perfetta è impossibile, se no, certo su grandi numeri di giocatori qualcuno avrà anche droppato la perfetta Infinity ma la stragrande maggioranza delle armi perfette con le parti perfette che avete in rete io sono sicuro che vengono da un editor di save file viceversa per così ragionare se il drop è stato un drop fortunato o più o meno fortunato invece è questo interessante, ah guarda che hai il calcio DAL e questo eh sono stato fortunato oppure no, vado a controllare ecco in quel senso lì diventano informazioni che aiutano a rendere più ricco il gioco torniamo al povero Hexton che stava annoiandosi mortalmente stiamo per vedere al Galgando Paroloni, la Hornet in azione praticamente one shotta ecco la nuvola di danno splash corrosivo è talmente forte che con questi nemici di basso livello non vale la pena fare il burst completo conviene dare dei piccoli tocchi e sparare un proiettile per volta una cosa che mi piace tantissimo di Borderlands 2 è che puoi andare dappertutto ad esempio perché aspettare che Clap apra il cancello, saltiamo qua e se fosse anche un po' più alto potremmo sfruttare un trucchetto prima o poi lo vedremo, il cosiddetto salto con la granata, il grenade jump in pratica si lancia una granata sui propri piedi e l'esplosione ci proietta verso l'alto permettendoci di raggiungere altezze diversamente impossibili e non c'è solo il grenade jump, c'è anche di meglio ma non voglio spoilerare troppo beh qui non c'è davvero storia, andiamo un po' avanti, è un massacro fatta piazza pulita dai nemici potremmo fare conoscenza con Sir Hammerlock figura carismatica, tant'è che poi gli è stata dedicata un'intera storia, un DLC ecco qui con un personaggio facendo il furbo col salto di prima del cancello era rimasto un po' indietro Clap e non andava avanti la storia allora ho dovuto uscire salvando e rientrare poi tutto ok l'importante è per i principianti, Hammerlock darà corrente a tutti i distributori automatici della zona, consiglio poi lo facciamo magari insieme e di andare a provarlo questa volta posso farvela vedere bene come è fatta una stazione di spostamento rapido andiamo a fare la consegna per aver fatto piazza pulita, alberga e riceveremo una ricompensa e ricorderete che al primo playthrough non c'è nessun problema a accettare le missioni secondarie accettatele tutte insieme per due motivi servono tutte e due per poi accederne a una che porta a un mini boss con un'altra arma leggendaria potenzialmente droppabile il secondo motivo è questo, anche se soltanto una di quelle che avrete accettato sarà l'ultima quella attiva e di quella vedrete in modo permanente le informazioni sul progresso in alto destra sullo schermo siccome spesso il percorso che porta a completamento di una si interseca con quello delle altre in modo naturale, uccidendo nemici, uccidendo tipi di animali, aprendo casse scoprirete che senza volerlo starete facendo procedere anche più di una missione per volta ottimizzerete così i tempi occhio eh, vi ricordo, ve l'ho già detto, che invece quando sarete nel playthrough per il quale vorrete ottenere le armi blu uniche da missione secondaria al massimo livello possibile lì non dovrete accettarle finché non sarete al massimo livello che vi siete preposti come obiettivo ok, sono un missioncino del cavolo, andare a uccidere un po' di bulli, mong, guardarci la mappa è facilissimo poi trovarli, sono lì vicino, poi stessa cosa nel cimitero quella fatevela da soli io vi mostro magari solo un momento in cui per le altre due si fa sinergia l'una con l'altra ma prima di abbandonare berg vediamo come utilizzare i distributori rapidissimamente ok, qui scorrete i vari tipi di munizione, se avete i soldi compratevele sotto spesso poi ci sono anche oggetti tipo scudi o altro, dipende dal distributore ma importante sulla destra l'oggetto del giorno che è un oggetto tipicamente con caratteristiche superiori agli altri e ha un ottimo prezzo, guardate anche quel timer, vuol dire che tra circa 12 minuti ne verrà generato un altro con il bumper del controller potete accedere alla sezione per vendere armi occhio perché potreste anche sbagliare e venderne una che non dovevate c'è anche la sezione per ricomprarsele, sono tre le sezioni quindi acquista, vendi e ricompra, ma il prezzo per ricomprarsele sarà superiore a quello che avrete ottenuto vendendola bastarda Gearboss, no dai, i distributori sono di Marcus, come poteva comportarsi diversamente, quella carogna non mi ricordo se l'avevo già detto, però andando nello zaino, usando i due grilletti potete ordinare armi e oggetti secondo diversi criteri, insomma sono autoesplicativi direi poi salva vita la possibilità usando la levetta, schiacciando la levetta di sinistra tac, prima li marcate come schifezze da buttare, questo invece sono l'asterisco dei preferiti se avete etichettato come da vendere, da buttare 10 armi, arrivando qui usando L3, vedete in basso a sinistra le potremmo vendere tutte insieme in un colpo solo, comodo oltre a questa qui di Marcus che abbiamo appena visto, abbiamo anche qua il dottor Zed, sono tutti i personaggi che conosceremo appena arriviamo al campo base diciamo, qua potete acquistare un po' di energia se ne avete bisogno per partire al meglio col prossimo scontro poi scudi e anche qua l'oggetto del giorno infine si trova qui dietro la casetta dove è uscito Hammerlock il terzo tipo di distributori, anche questo tipo di distributore gestito dal perfido e avarissimo Marcus cosa importante a notare, il personaggio adesso è a livello 3 ma le armi sono a livello 2 è il discorso che tutto per i livelli è legato alla mappa adesso attenzione perché c'è un particolare, sto prendendo questo punticello alla destra della stazione di spostamento rapido che a volte anche giocatori esperti non conoscono cioè banalmente che qua c'è una delle poche stazioni di cambiamento rapido per cambiarsi il nome, per cambiarsi l'aspetto ma soprattutto per fare il respect dei punti abilità l'ultima voce, adesso non possiamo perché non ne abbiamo ma ci sono dei momenti, senza fare troppi spoiler in cui il nostro, chiamamolo campo base, sarà inaccessibile e non sapremmo diversamente come fare per cambiarci la build ecco, basta tornare qua a Berg che invece sarà sempre accessibile e lo potremo fare ho completato la missione che fa polizia nel cimitero e nell'altra area ok, adesso accetto tutte le altre questo per lo scudo e brutta giornata sono le due sinergiche mentre procedo con l'una, possiamo far avanzare anche l'altra è deciso che non sto poi facendole giusto per mostrarle a voi ma conviene perché in questo modo il personaggio sale un po' di livello il boss che ci sbarra la strada per tornare al campo base è abbastanza tosto è quel Capitan Flint che già più volte ci ha preso in giro qui, punto tutto a sinistra per non si va a sinistra, usciti da Berg ecco, laggiù in quel agronomarnato di Catapecchie c'è quello che ci serve per completare una delle due missioni dobbiamo usare un ascensore che dovrà essere riattivato sostituendo un fusibile per salire ai piani superiori ed acquistare da un reinventore automatico uno scudo e poi la missione sarà completata siamo però sulla stessa strada che porta a De Bullmong che servono per l'altra missione quasi ucciderli e poi finirli con un colpo corpo a corpo per prendere loro la pelliccia e poi riportarla al buon Hammerlock è davvero facile soprattutto con la Hornet avere ragione di questi tipetti la sull'ascensore e quali i rack prima o poi faremo la loro conoscenza la leva ci conferma che abbiamo un problemino fusibile da sostituire proseguiamo allora sulla strada altro agglomerato abitato da Tipacci si intravede appena appena lì in fondo c'è però quella barriera elettrica da far fuori e volevo spiegarlo perché la prima volta ci ho perso un po' di tempo per capire quello che dovevo fare perché non si vede dietro lì c'è un banco elettrico a cui dobbiamo sparare per distruggerlo a quel punto la barriera ed è uno schema che si ripeterà sempre barriera elettrica dove sarà il quadro da far saltare qui è proprio sui nostri occhi altre volte sarà un po' più nascosto dovremo seguire i cavi salire scalare ho fatto la stupidata di non rifornirmi di munizioni per la pistola al distributore e adesso pago le conseguenze però anche le altre armi che ho trovato nel frattempo non sono poi così malaccio c'è un rompiscatole là in alto per il quale sarebbe davvero comodo un cecchino ma tant'è un umiliante modo per rifornirmi di munizioni sarebbe sapete e cioè quello di farmi uccidere perché risponendo il gioco vi dota di un certo e non poche numero di munizioni però in tipo d'arma forse però meno quelle per i razzi per lanciarazzi vale sempre aprire questi armadietti non contengono concezionali però qualche buona arma verde qualche volta una blu mi sembra di averla anche trovata e poi in teoria anche se la qualità è molto molto bassa qualunque tipo di cassa potrebbe anche regalarla una leggendaria è capitato tre volte il fusibile lì come al solito oggetto azzurrino e adesso prima di tornare indietro siamo vicini a una zona in cui ci sono parecchi bullimong approfittiamone per far procedere prendi la pelliccia leggeteli in alto a destra di bullimong menano comunque il trucco è ovviamente quello di abbassare di parecchio la loro salute fino a quando sono a un filo e poi con la levetta dare il colpo corpo a corpo e ogni tanto arrivo a qualcuno che rompe e questo mi fa fuori e questo mi ha fatto fuori dai così vediamo anche cosa succede in lotta per la vita dove cercare di far fuori un nemico prima che la barra rossa se ne vada vi conviene al diavolo poi mi rifarò ecco ecco questo qui è mio mannaggia no mi sa che è due uffa adesso però ci sei prima pelliccia che cosa avete imparato da questo primo scontro con i bullimong ravvicinato in generale vale sempre conviene potendo avere con sé equipaggiata un'arma ad alto potenziale meglio sarebbe un lanciarazzi ma anche un buono shotgun non è malaccio e questo se avete un nemico vicino diversamente conviene avere un'arma da lunga distanza come un fucile d'assalto una mitraglietta tra parentis da vicino potete sparare tranquillamente intendo in lotta per la vita anche con un lanciarazzi tanto siete già morti o morenti alla fine uscite da lotta per la vita non c'è problema di suicidarsi in quello stato intendo ok inoltre appena vedete che state per schiattare lanciate adesso io devo far finta di non averle non le uso delle granate perché quelle poi magari aiutano tantissimo faranno un bel po' di danno al nemico che poi potrete finire anche se state lottando per la vita oh il video sta andando troppo lungo mi fermo vedremo lo sconto con il boss la prossima volta sarà zero perché con hackstone l'ho fatto però mi sono dimenticato di filmare certi particolari allora vorrei rifare una run pulita a risentirci